C'era una serata d'onore, avevano i gobbi a Parigi negli anni 50 e lei entusiasmò un'attrice della Comedia Francesca per la sua serata d'addio la convocò sul palco insieme a Lorenzo Lever e di T.P.A.L.F. e Charlie Cepri e Charlie Cepri, visto che lei si vede il francese, le chiese ma come faccio a entrare? E lei lo consigliò e gli disse ma entra col tuo passettino da Charlotte, col bastoncino, vedrai che gli è in giù il teatro. Quindi hai fatto anche la regia a Charlie Cepri Sì, insomma, mille altre perle ma soprattutto una grande umanità